Anche gli impianti sono appena stati rifatti, quindi... Quanti metri quadrati è? Saranno un'ottantina, però in più ci sono da considerare i balconi, poi, quindi... Certo. Ehi, sei venuta? Salve. Stavo appunto dicendo alla signora che l'appartamento, oltre che luminoso e silenzioso, è anche grande, come vedi lei. È l'ideale questo per una coppia, eh? È per me sola. Meglio, meglio signora, avrà più spazio. Ha notato anche gli infissi, nessun rumore, nessuna dispersione di calore. Mi assicuro che qui, guardi, c'è solo da metterci i mobili. E poi per questo prezzo non troverà sicuramente un appartamento simile. Potrebbe lasciarci da soli? Certo, certo, mi lascio. Fate porco un comodo, vi aspetto giù. Sì, grazie. Allora. Che c'è, non ti piace? In questa casa deve essere vissuta una famiglia con un bambino tra i quattro e i cinque anni. Mi piaceva giocare a pallone. Ha fatto un tiro contro una bajour, l'ha distrutta. Ci sono ancora dei cocci per terra. Quando hai che impari a lasciare il lavoro in ufficio? Amore. 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 Amore.